Consiglio Comunale di Siracusa è finita, il TAR conferma lo scioglimento sindaco da solo. Che era il decadimento del civico consesso? Il dato è tratto. Il TAR di Catania ha rigettato il ricorso proposto da 17 ex consiglieri comunali che si opponevano allo scioglimento del civico consesso chiedendone il ripristino. Il ricorso del Tribunale Amministrativo era stato inoltrato da Ezechia Paolo Reale, Fabio Alotra, Federica Barbagallo, Mauro Basile, Sergio Bonafede, Gianni Boscarino, Salvo Castagnino, Chiara Catera, Salvatore Costantino, Muccio, Alessandro Di Mauro, Giuseppe Impallomeni, Curse, Locurse, Michele Mangiafico, Ferdinando Messina, Tonino Trimarchi, Concetta Vince e Franco Zappalà. A distanza di pochi mesi il TAR di Catania ha emesso il verdetto che conferma la legittimità del scegliamento del Consiglio Comunale come decretato un anno fa dal Presidente della Regione. I legali del Comune di Siracusa, del Presidente della Regione e dell'assessorato regionale degli enti locali avevano avuto modo di replicare ai motivi aggiuntivi proposti dagli ex consiglieri al ricorso originario. Il Consiglio Comunale di Siracusa è stato sciolto nel febbraio per decreto del Presidente della Regione siciliana per aver votato contro la proposta di delibera del conto consuntivo finanziario proposto dalla Giunta Italia. I 17 ex consiglieri ritengono di aver esercitato il loro diritto respingendo la proposta di bilancio che ritenevano illegittima, incappando però nella norma che dispone per i casi in cui non passi in aula lo strumento finanziario che ad andare a casa vada solo il Consiglio mentre il Sindaco e la Giunta restano in carica interfacciate dal Commissario straordinario nominato dalla Regione. Adesso l'unica via percorribile sarà quella del ricorso al CGA regionale.